Sono stata da Lidl a fare la spesa, non fate caso ai miei capelli, al fatto che sono già in pigiama, per me la giornata è finita, vi faccio vedere quello che ho preso. 2,50€ questi tipo spiedini di pollo glassati, 2,50€ le fragole queste qui di Matera, buonissime. Sui 3€ queste polpettine di suino, carta da forno in fogli 1,50€, immancabili loro, cetrioloni a 3,59€ mi pare, questi buonissimi. Coca-Cola in offerta tipo 35 centesimi, birretta, alette di pollo a rosso queste qui Durango di Aya, 2,50€ per 600g, camomilla 65 centesimi. Con la Lidl Plus ho preso dell'Alesso queste racchi di tostate piccanti super buonissime, a meno di 99 centesimi perché erano in offerta con la Lidl Plus. Questa è la mia spesa, vi mando un bacio, ci vediamo presto!